guardate le meraviglie di questo bosco è stupendo un giallo di fiori incredibile una cosa stupenda è tutto giallo il bosco questa noi la chiamiamo elema è una piatta che assomiglia al murdegu e sotto ci nasce anche un fungo che lo chiamiamo proprio fungo di elema è proprio un porcino come un porcino leccino questi sono i fiori guardate che bello guardate questo viale guardate qua che meraviglia guardate è stupendo il nostro bosco è una cosa meravigliosa la nostra macchia mediterranea ecco questo è lo chiamiamo murdegu ma in italiano si chiama cisto ha già fatto i fiori e qua ci nasce un altro tipo di fungo che si chiamano lo chiamiamo cordolino mudregu però effettivamente è un bollettus si chiama bollettus è un porcinello che è bollettus cistus perché nasce sotto il cisto poi andiamo avanti e qua abbiamo ancora fiori 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 sempre sempre cisto ancora cisto e qui abbiamo una bella pianta di fichilindie le nostre fichilindie sardi perché questa è proprio una pianta dal tronco adesso c'è i fiori i frutti con i fiori a metà luglio e agosto abbiamo i frutti maturi e poi cominciamo a massaggiare andiamo avanti sempre cisto qua qui c'è sempre il bosco che continua guardate che bello e la chiudiamo così a questo punto vi saluto e faccio vedere il filmato grazie e arrivederci